musica 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 buongiorno ragazzi e ragazzi oggi siamo ritornati con un nuovissimo video che non abbiamo mai portato sul canale ovvero tutte le nostre letterine accumulate nel tempo più cartelloni ahahah allora partiamo da farvi vedere le guardie più grandi che teniamo a parte questo scatolo a parte questo che è una un quadro un quadro e l'abbiamo forse ce l'hanno regalato al mio incontro Denise questo è gigante che è tutto rosa alzalo alzati mi fa vedere meglio e non mi vedo si che ti vede e viene non viene qui c'è Giulia e qui ci sono io troppo bello questo questo ce l'ha fatto Francesca allora io ora vi faccio vedere quelle lì più piccoli è perchè tu hai già fatto queste due cose allora questo ce l'ha regalato Martina tutto giallo bellissimo e questo ce l'ha regalato Denise bellissimo anche questo oggi abbiamo le lettere ora facciamo tipo non so se voi l'avete mai visto la posta di Giulio tipo si va bene mettiamo le pizze oddio raga quante quante allora quante non so cosa dire alcune cose sono un po' sparse quindi non sappiamo chi si da regalare e queste sono regalate proprio oggi e poi i nostri giorni allora questa è una letterina che abbiamo letto vabbè le lettere abbiamo letto insieme nelle live questa ce l'ha mandata Alessandra e se avete seguito la live sapete questo ce l'ha fatto delle bambine noi teniamo anche le buste solo con gli indirizzi vabbè ma questo è nel taglio qui aspetta Giulia però vai piano questo è bellissimo raga perchè è un disegno alcuni ce li ricordiamo però cioè se li andiamo a vedere ce li ricordiamo meglio perchè comunque ne sono tantissime e poi ci sono tutti i loghi e questo ce l'ha fatto ora ve lo dico ma che è questo qua? da Francesca vabbè no vabbè qui ci hanno mandato uno di queste non so se sono figurine o cartelline vabbè questa ma non si vede una figurina così grande troppo carina ho fatto che hanno un messaggio questa non so chi ce l'ha mandata perchè appunto non c'è il nome questo che è bellissimo guardate e poi si sta avvicinando natale e quindi c'era anche appunto l'albero e questa l'ha regalata nooo ah da varie persone quindi Ilari, Aurora, Celeste, Paola, Silvia e Anna nooo aspettate non l'abbiamo mai aperta questa con me non l'abbiamo mai aperta mai o quando mai l'abbiamo già aperta da dietro aspetta ragazzi no no non ci potevamo scordare di una volta allora sto coso era un perfetto ventaglio allora questo vabbè è un altro un'altra lettera che non capisco io non capisco mai vabbè questa è un'altra busta l'altra busta ah vabbè qui c'è la M in colla a caldo con i glitter alcuni ragazzi ce li hanno regalati anche a scuola raga raga infatti questo ce l'hanno regalato in fila volevamo aprirlo ma avevamo paura di romperlo infatti c'è una spaccatura qui e però era un po' bello allora questa non so chi è perché non c'è il numero e il nome però comunque ci ha fatto dei pacchettini quindi ci dovrebbe stare qualcosina qui dentro poi non c'è infatti una G e una M credo sia da te che l'hai fatto qui questo bigliettino è stato fatto da Angelica questo non mi ricordo se ce l'hanno mandato oppure ce l'hanno dalla scuola si paura ah sempre aurora e ilari paola e va bene l'hanno mandato ok poi teniamo questo che è molto molto bello bellissimo l'hai già fatto vedere no no questo che è bellissimo guarda questo quanto è bello e ce l'ha fatto ora vediamo 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 questo che c'è vediamo a attaccare tutte queste cose in camera rossa per poi fare una parete piena di letterina questo è stato fatto da Chiara questo è stato fatto da un bacione da vediamo Antonella 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 vediamo queste invece ma queste sono tutte invece raga oh Margherita ho trovato Margherita ho trovato Margherita ho trovato Margherita non l'hai trovata Giulia allora non so come si chiama questo sta scritto qui no non c'ha scritto vabbè comunque ci vediamo tanto bene ma perchè non è colorato se veniva colorato è ancora molto molto bello ma è già bello è bellissimo questo è bellissimo raga me lo ricordo wow sei bravissima ma chi per questo è bello no questa è appena rallentabile guarda per Margherita Giulia kawaii e questo vuole è stupendo ha trovato una carta del genere così minuscola di qua cioè come vedeva cioè guardate che cioè ragazze guardate che che scrittura una di qua di qua e di qua pure dentro ma che è caduto che è scritto ah non è caduto è una cosa vecchia questo vecchia loro si chiamano Ilaria e Aurora carinissimo wow c'è da più bellissimo questo la cosa bella è che ragazzi c'è tutte queste letterine significa che ci volete tanto tanto bene qui c'è anche un gestetto non so perché e ragazzi vi promettiamo che quando riusciremo tappetteremo tutta la camera di cartelloni e poi voglio comprare una una lavagna di sughero in modo che noi mettiamo tutte queste letterine sopra quindi sì prima o poi lo faremo da pochi giorni ci arrivò questa ci arrivò pochi giorni fa ed è questa Veronica questo ce l'ha fatto Veronica questa Francesca un bacione a mia con questa ed è bellissimo questo piccolissimo no di che no poi abbiamo questo che questo è un mito perché l'abbiamo messo insieme ok ma che è? e lei si chiama? non lo so tre 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 non so perché sto numerando ma aspettate che trovo un attimo il nome E qua non vedo più le lettere, stanno tutte qui giù Ah, questo è bello Non lo so come ti chiami, però C'è scritto una bella cosa Ah, qualissimo C'è questo che adoro Poi c'è questo foglietto piccolino con scritto ciao Purtroppo è rovinato dalla grandezza che non c'è andata in quella brutta scatola Brutta scatola Perché proprio dobbiamo andare a mettere in una No, brutta scatola, rotta Vabbè, lei si chiama Roberta Si riesce ancora a leggere tutto quanto Buona sera, è una bella giulia Vabbè, qui io credo sia No, questo giulia non mi ricordo se l'ha da scuola Forse a scuola L'ha da scuola a cavallo, lo stavo uscendo io Questa è una bella bustina, molto bella Con dentro varie cose, cioè varie letterine E una mano Ah, questa è la tua mano, quella è la mia Questa è la mia La tua mano? Si E come c'è? Rita Questa ce l'ha fatta Rita Eh, mica Eh, guarda, vedi che Che sembra Che sembra? Che sembra la mia mano Quindi è la mia Poi ha fatto dei coniglietti Margie e Giulia Con i conigliati cuccioli Allora non so come si chiami Perché non l'ho scritto Anzi, forse è qui Come si chiamo? Speriamo? Mi sta prendendo il motine Questa è stata la tua scena carina I secondi Come un anno Gris e stile Questa cosa fare? Ah, questa Non metto Non ho trovato questa Anche di qua Cristina le si chiama Muah Cristina Ragazzi, è già un po' bello Quando ci regalate Tutte queste Lezzerine carine Come stai? Sono la mamma di Giulia Cosa vuoi? Ehi Cosa vuoi? Ciao Allora Eh, cosa vuoi? Poi Vi facciamo vedere questo Questo pure È tanto, tanto carino No, l'ho già fatto vedere Va bene Lo vi facciamo vedere Mattina Mattina Ciao, ciao Mattina Muah Questo Quanto è bello questo qui Sono questo Che mi ricordo Mi ricordo Mi ricordo Mi ricordo Ah, sì Ti chiami Vale Ah, no Mi ricordo Mi ricordo Rita, Valeria, Fabiana, Roberta e Siria Ciao Ok, questa bambina Ha fatto questo Con poi questo Perché mi ricordo Vi riusciti insieme Questo anche C'è un fogliettino piccolino Però Come Ah Questo Adoro Adoro Questo Adoro Questo ce l'hanno regalato Come mi ricordo No No Non sta scritto Come Ma Sta scritto Non so Magic 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 E poi Poi vabbè Qui ci sono varie Palamite Palamite Che Aspetta Aspetta Giulia Le altre palamite Dove lo stanno Dove vedo Aspettate No Forse Sono tutte queste Che ci ha mandato Francesca E sono Ora ve le faccio vedere C'è questa Con la cornice viola Aspetta Con la cornice viola Poi Questa Che è minuscola Con la cornice Azzurra Verde acqua Dammela Smentila Dammela Poi Teniamo Questa qui Allora Vi sto facendo vedere Tutte quelle là Un pochettino più vecchie Questa che invece Ha la cornice tutta verde Acquam Poi Queste che sono un po' Nuove Perché Foto nuove Questa è in live Un'altra In vacanza Allora Questa è una foto È una foto della live Con una cornice Dario Sono vergine Sì Ok E Poi Questa Che è troppo carina Tome In vacanza Aiuto Non mi ero fatto male Beh allora Noi Abbiamo Certo Non credo Io non credo Ce ne sono tante Ce ne sono ancora Tutte queste Schifo Sì Vabbè Allora Vi voglio bene Marti e Giulia No ragazzi Stiamo Moridendo Per quello Che abbiamo fatto Allora Vorrei Un attimo Capire Come ti chiami Alessia Ciao Alessia Mua Ah Nella Comunque Ci sono ancora Tutte queste Per vedere Sì Giura Giura Giulia Giura Se lo giuro Non è vero Non è vero Non è vero Sei una bugiara Dove ci ho visto Farle vedere Allora Non è vero Questo è da parte Di figlia Sì 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 Non è vero Questo si No Ah no Ok Allora Facciamo Oh Giulia Giulia L'hai fatta vedere Poi C'è questo Che è stato fatto Da Francesca Ed è un disegno Troppo 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 Bello Ma sempre ho avuto paura Di aprire le letterine Perché le fanno Raga Ma tu sei pazza Tu che le fanno C'è Aspetta No Non l'ho fatta Le giuro Ah sì È Francesca Questa Oddio Ma quant'è Sì ma Guarda Tutta la letterina Piena Piena Giulia Questo ha scritto Questo le fanno Vedere No No Hai fatto vedere Se no Anzi Questo si Perché ho visto Che facevi Delicchio Non è vero Raga Questo è il libretto Che Giulia Mi ha fatto vedere No Questo le hai fatto Vedere Sì Perché Questo è il fogliato Piccino C'è anche Un foglio Bambud Che ci ha regalato Bambud Guardate Questo abbiamo Anche Bambud No Dai Dai No Questo non l'ho fatto Vedere Falo vedere Questo Poi Questa Aspettate che l'apro Cerco di aprirla Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Ragazzi Piccola 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 La prima Sticoso E poi Sticoso 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 C'è una lettera Troppo bella Che poi Non c'è più niente Una lettera Guarda che ha fatto Quanto è nata C'è E poi C'è La nata C'è 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 E poi c'è Questa Che è troppo bella Ora noi ci mettiamo a posarle tutte quante per bene e sistemate e quindi ragazzi Vai giù Vai Mi prendo Maldite Guardate tutte queste Ah l'hai fatto vedere Questa No Io non mi prendo Vai muordi che è arrivata Solo un minuto E' spagnibile Facciamolo passare Giulia muordi Allora Ciao Mi ha dato Questo regalo Mi ricontro Francesca La faccio Il telecom Però Con i vostri Svecchila Svecchilini Ah Svecchila Pieno 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 Di segni Scrutti Così Così Bellissimo Quindi 3 Giulia Vieni 3 2 1 Go Quindi ragazzi Questo è il video Spero che vi è piaciuto Tantissimo Imprimetevi a Instagram MargieGiuliaqawai Il primo passo Official Su Facebook Su MargieGiuliaqawai Il real Sul secondo canale Giuseppe Il secondo canale Maggi Su Musica Mi piace la MargieGiuliaq Il real Se volete le tazze, i cuscini e altre tantissime cose e altri tantissimi colori Andate su www.margeegiuliacawai.it Se il video vi è piaciuto, ah e ricordatevi che io Marghe e lei Giulia insieme a voi formiamo la Magic Family Cioè amore puro Se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale, commentate e condividete dappertutto Se non vi è piaciuto, ciao!